Grandi nomi, niente scambi con altri stabili per non condizionare i cartelloni, spazio alla drammaturgia contemporanea e formule accattivanti per i giovani. Emozioni al centro, così il neodirettore del Teatro Stabile del Veneto, oggi al Verdi di Padova, ha delineato le novità della stagione. Vorrei che fosse un teatro con più giovani in sala e quindi proporre più drammaturgia contemporanea, mantenendo in tattica tutto quello che di buono viene fatto nei classici nel nostro paese e attirando i giovani in tutti i modi possibili. Faccio un esempio per tutti, questo teatro di Padova ad esempio non è dotato di un sito interattivo, noi avremo un sito interattivo attraverso il quale dalla prossima stagione sarà possibile acquistare i biglietti. Sei gli spettacoli che verranno messi in scena nel 2010, da Roma nel suo cucciolo con un Gasman regista e protagonista, alla vita di Manuel Kant, a World Stars del drammaturgo vicentino Vitaliano Trevisan, all'adattamento teatrale presentato per la prima volta in Italia del film di Almodovar Tutto su mia madre. È una novità assoluta, sono molto fiero, questo sarà uno stabile che coinvolgerà anche altri grandissimi attori, da Elisabetta Pozzi a Carlo Cecchi e Marina Confalone nel canto diretto da me, la Paiato, insomma era inevitabile che da attore più che regista, più ma ancora che regista, incentrasse la mia attenzione sul lavoro di questi straordinari artisti che sono dei veri e propri atleti dei sentimenti. Nel progetto complessivo di promozione del Teatro Goldoni si inserisce anche l'iniziativa La Mostra del Cinema a teatro, una serie di appuntamenti con attori teatrali, protagonisti dei film in concorso alla 67esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che daranno testimonianza della loro duplice esperienza artistica. Ecco i progetti di Alessandro Gasman, che si congeda dalla folla di giornaliste, giocando sulle sue origini, si definisce un bastardo e stempera così, con una battuta, le polemiche di settembre di chi alla direzione dello stabile avrebbe preferito a lui un Veneto Doc.